L'ultimo mese del report sui tempi di lavorazione delle pratiche al registro imprese della Camera di Commercio di Isernia evidenzia un forte trend positivo con un'alta performance pari al 99% di evasione delle pratiche trasmesse tramite la procedura telematica Comunica. Già nei mesi scorsi la percentuale di evasione delle pratiche al registro imprese entro 5 giorni dalla presentazione, così come prevede la legge, aveva raggiunto una percentuale alta intorno al 94,95% di chiusura, ma il mese di novembre è stato particolarmente proficuo con la quasi totalità dei protocolli chiusi nei tempi standard, con un forte distacco rispetto alla media nazionale che si attesta intorno all'85%. Questi risultati, afferma Gigi Brasiello, Presidente della Camera di Commercio di Isernia e di Union Camere Molise, ci rendono fieri del nostro buon operato e della celerità con cui si procede alle iscrizioni per le imprese, nel solco delle migliori prestazioni della pubblica amministrazione nazionale, in periodi di restrizione del personale, spending review e quant'altro, che ci costringono a lavorare con sempre meno personale, ma danno maggiore soddisfazione, proprio perché si tratta di una piccola realtà come la Camera di Commercio di Isernia, che si conferma punta di eccellenza nella gestione delle pratiche telematiche.